Buoni tre anni sul miglio, pochi ma buoni, non corre Tarf, avvio numero 5, ne rimangono in 6. La Tempesta, un'ennesima Love You, targata MAC, Giampaolo Minucci in salchi, la più gettonata. Mezzo Meccanica in movimento, Turbo Rosso, Truppiale Jet, Tempesta, Taxi Grif, Tricax, Tekebu. Questi sono i tre anni agli ordini dello starter. Arretrato Tricax, numero 6, bene a rete gli altri, prende velocità la macchina. Si ritrae Truppiale Jet, galoppa il 4, la Tempesta al comando con a largo Tekebu. Tekebu si fa a spazio, poiché Tempesta corre da leader. 13.8 in lancio, Tekebu parcheggia. Siamo al completamento, è la piegata poi Turbo Rosso. Siamo ai 400 iniziali, che la Love You di Minucci ripassa nell'ordine del 29.7. E una volta ora leader, amministra in vantaggio la Tempesta e la fila indiana di 5 rimaste in gara, poiché è ormai fuori corsa, è il 4 di Taxi Grif Italia. 44.8 i 600, ma tutto sommato l'andatura è brillante. Non avvengono variazioni sostanziali, la Tempesta leader. Dalla coda Tricax cerca di venire a largo. 1.1.3 il mezzo miglio, 16.5 di frazione, si viaggia da 16.5. E la leva di Minopoli va a far pariglia con Turbo Rosso. Cavalli di fronte, chilometro, gettonati in 16.3.15 di frazione. Ma per il momento la re di Cash, di Papà Salvatore rimane ancora lì. Cavalli che affrontano la curva finale. Si affaccia Tekebo. 14.7, 1.39, tre quarti di miglio. Tempesta sostenuta. Tekebo si avventa, poi Turbo Rosso. Retta d'arrivo, tempesta, tenta lo stacco, ma Tekebo non dà tregua. Tekebo non dà tregua. Non dà tregua di Teltoni. Vuol fare Pasqua anche lui, vuol fare Pasqua. Tekebo, facile su Tempesta. Mentre per il terzo è il numero uno di Turbo Rosso. Due minuti tondo, 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 ma molto tondo. Come sta crescendo questo Espluacaf. Come sta crescendo questo Espluacaf. Grazie sempre al tening speciale di Pasqualino Esposito, i colori di Antonio Esposito, ma in salchi c'è lui, Little Tony, con un nuovo Pasquale pronto, 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 per domenica. Due sessantaquattro per un ennesimo interessante Espluacaf. Linea allo studio.